Dal Vangelo secondo Luca In quel tempo, Gesù disse ai Suoi discepoli una parabola. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutte e due in una buca? Il discepolo non è da più del maestro, ma ognuno ben preparato sarà come il suo maestro. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non t'accorgi della trave che è nel tuo? Come puoi dire al tuo fratello permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio e tu non vedi la trave che è nel tuo? Ipocrita! Togli prima la trave dal tuo occhio e allora potrai vederci bene nel togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non c'è albero buono che faccia frutti cattivi né albero cattivo che faccia frutti buoni. Ogni albero, infatti, si riconosce dal suo frutto. Non si raccolgono fichi dalle spine né si vendemmia uva da un rovo. L'uomo buono trae fuori il bene dal buon tesoro del suo cuore. L'uomo cattivo, dal suo cattivo tesoro, trae fuori il male perché la bocca parla dalla pienezza del cuore. Pace e bene, carissimi amici, siamo giunti all'ottava domenica del tempo ordinario e la liturgia della parola che ascolteremo ci invita ad una profonda revisione di vita, ci invita a focalizzare l'attenzione sui nostri errori, sulle nostre fragilità e a guardarci bene dal giudicare gli altri, dal puntare il dito verso il fratello senza renderci conto che forse noi siamo più peccatori di coloro che accusiamo. Possiamo quasi pensare che la parola di questa domenica ci prepari in qualche modo all'imminente tempo liturgico della Quaresima che inizierà proprio mercoledì prossimo con il sacro rito dell'imposizione delle ceneri. Nella prima lettura tratta dal libro del Siracide ascolteremo alcune brevi metafore per comprendere che la vita dell'uomo, il suo sentimento, emerge dal suo parlare e che egli non è esente da difetti da cui è necessario purificarsi come si purifica la farina nel setaccio. Ma la parola di Dio diventa insegnamento immediato, concreto, proprio attraverso le parole che Gesù rivolge ai Suoi discepoli nella pericope evangelica tratta dall'Evangelista Luca e che si pone in continuità con la parola della scorsa domenica. Gesù parte da un esempio. Può forse un cieco guidare un altro cieco? Non cadranno tutti e due in un fosso? Quindi denuncia l'ipocrisia di chi punta il dito verso il fratello che sbaglia senza rendersi conto di non essere migliore di lui. Perché, dice ancora Gesù, guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo. Come puoi dire al tuo fratello permetti che tolga la pagliuzza che è nel tuo occhio e tu non vedi la trave che è nel tuo. Ne consegue chiaramente che Gesù invita a togliere prima la trave dal proprio occhio al fine di poter liberare la vista da tutto ciò che impedisce di vedere bene la pagliuzza da togliere nell'occhio del fratello. È un chiaro invito a non giudicare, a riflettere prima di tutto sulle proprie mancanze, sui propri limiti, sulle proprie fragilità, come dicevo poc'anzi. E a sentirsi così noi per primi bisognosi di misericordia. Gesù ci dice così di esercitare l'umiltà, la virtù che ci permette di riconoscere la nostra piccolezza, la nostra condizione di peccatori, allontanando così dal nostro cuore ogni orgoglio, ogni desiderio di giudicare o condannare il fratello che sbaglia. È bello che Gesù ci parli in questi termini, richiamando fra gli uomini una relazione fraterna. Siamo tutti fratelli e sorelle. Quello che facciamo in bene o in male lo facciamo verso colui che è per me un fratello, nonché figlio dello stesso padre che è nei cieli. Che l'insegnamento di Gesù, carissimi amici, penetri nel nostro cuore e ci aiuti ad essere testimoni credibili del suo amore misericordioso. Pace e bene e buona domenica a tutti. e buona domenica